è uscito il libro rosso di natale il surrealismo della pianta grassa per al greditore guardate che malloppone quasi 300 pagine il lavoro degli ultimi anni strenna natalizia ora voglio dire a natale cosa c'è di meglio di questo rosso che tanto decorazione fa ma se lo aprite troverete delle belle cose innanzitutto il libro è dedicato a gianni e noci come ovvio giusto che sia c'è una prefazione del grande valerio corzani di piermarco turchetti è una post fazione di giuseppe carbone in mezzo ci sono aforismi tutte le raccolte gli aforismi del passato più quelli nuovi c'è un intermezzo dedicato al jazz italiano ahimè e lì ci sarà molto molto da ridere tutta una parte ci sono invettive ci sono articolacci c'è tutta una un bestiario di amici a cui ho dedicato scritti sal costa nazim comunale c'è non saprei quanta linda randazzo insomma c'è di tutto si parla di marx lacan recensione del libro di sergio pasquandrea di piermarco turchetti articoli su slaughter dick sul cinema insomma è una lettura varia e oserei dire come potete si parla attenzione si parla di calcio si parla di meditazione c'è una parte dedicata all'osteoscuro a vincenzo fazio eccetera eccetera ci sono tantissime cose in questo volumone guai a voi se ve lo fate scappare ma soprattutto cioè veramente potete richiederlo online o comprare nelle librerie o se no fatemi sapere perché veramente questo libro qua cazzarola dovete averlo anche perché se non se non se non lo comprate veramente succede qualcosa al mondo di 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 non di non non bello ecco oserei minacciare adesso in maniera minacciare in maniera impietosa oserei dire mi cade l'occhio sul futuro ermafrodito ecco il vostro futuro se non comprate questo libro quindi insomma una lettura varia al graditore è uscito il malloppone fatevi il regalone e insomma qua ragazzi non stiamo mica a pettinare bambole e cazzi di gomma raffreddati ma fortunati